Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura alla pagina politica, mentre vi parliamo, si sta svolgendo la seduta del Consiglio regionale che dopo di ieri è ripresa questa mattina alle 12.30. Chiaramente a tenere banco ci sono tanti temi, dalla legge sull'Aquila Capoluogo a quella sulla Grande Pescara, i servizi minimi della tua e sono tutti argomenti in discussione in questi minuti. Però chiaramente questo è l'ultimo Consiglio regionale perché sono addirittura d'arrivo le dimissioni del Presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso, che ha pronta la lettera di disimpegno, come l'ha chiamata lui e come sentiremo dalle sue parole tra poco nell'intervista. Mancano solo le ultime formalità. Domani ci sarà una conferenza stampa in regione a Pescara in cui il Presidente racconterà questi mesi alla guida dell'ente e darà anche contezza della lettera che ha scritto per dimettersi. Allora vediamo insieme l'intervista ad Alfonso realizzata da Germana Dorazio. Presidente, ha sciolto le riserve? Ho un convincimento molto maturo poiché in questi 150 giorni ho potuto pensare, valutare e soprattutto mettere al centro gli interessi dei miei territori e della mia regione. Adesso mi sta riuscendo anche un inizio di attività da Senatore della Repubblica che naturalmente nel quadro degli interessi nazionali farò sì che riguardi anche l'interesse regionale. Questa sera io metterò in evidenza che l'opzione riguarda la scelta del Senato, quindi considererò conclusa l'attività del mio mandato di Presidente della Giunta regionale. Domani formalmente comunicherò al Presidente di Pangrazio e al Presidente del Senato che sarò definitivamente Senatore dopo questi cinque mesi che hanno avuto una coabitazione. Non vedo l'ora di poter raccontare anche questi primi cinque mesi da Senatore. Con quale spirito cambia il suo ruolo oggi? Ma intanto con una consapevolezza amministrativa di un qualche significato perché ho fatto il Consigliere comunale in un piccolo comune, ho fatto il Consigliere provinciale, ho fatto il Sindaco di una città a capoluogo, ho fatto il Presidente della provincia, ho fatto il Consigliere regionale, ho fatto il Presidente della Giunta regionale, ho fatto anche la persona giuridicizzata per lotta politica e adesso faccio il Senatore della Repubblica che è lo spazio del Parlamento e della norma superiore. Con questo spirito mi metto a disposizione per questa fase delle questioni ulteriori rimaste non fronteggiate di Regione Abruzzo. Ha aperto la famosa raccomandata dunque? Non è ancora arrivata, mi è arrivata una comunicazione che mi anticipa l'arrivo della raccomandata, presumo domani o dopodomani che arrivi questa specie di pergamena che io considero con grande importanza, ma la mia lettera invece di disimpegno è già pronta e spero domani di poterla rendere nota. Comunque la raccomandata non è arrivata. Andiamo avanti con la politica perché grandi polemiche sta sollevando la questione della sospensione dei fondi per quanto riguarda la riqualificazione delle periferie. A un passo dalla firma delle convenzioni è arrivata ieri la notizia della sospensione del bando varato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri quando c'era Premier Matteo Renzi. Due anni fa aveva un carico di diversi milioni di euro per le città capoluogo, tra cui anche Pescara, che proprio oggi ha fatto tramite la sua amministrazione comunale una conferenza stampa. perde 18 milioni di euro di interventi, si sta mobilitando tutta la politica soprattutto sul versante delle opposizioni. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. A Pescara sono 18 milioni che, combinati con gli investimenti privati, generano una somma totale di 58 milioni di euro. Interventi per 58 milioni di euro che oggi, apprendiamo dal Governo centrale, sono sospesi per due anni. è una scelta che i sindaci italiani, non solo il sindaco di Pescara, ma tutti i sindaci italiani, contrasteranno, perché le nostre città hanno bisogno di ripartire proprio dalle periferie. Questo era un portato del Governo Renzi, non è il diavolo, è un'ottima misura che va mantenuta, a prescindere dal fatto che la targa sia di Renzi o meno, perché le città italiane tutte hanno bisogno di questo tipo di investimenti. Faremo tutti una battaglia, tutti intendo il sistema dei sindaci, perché io stamane già mi sono confrontato con il mondo del lanci, naturalmente, perché a prescindere dal colore politico questa decisione dovrà essere contrastata. Sappiamo che dopo la prima lettura al Senato ci sarà una seconda lettura alla Camera e ospichiamo che si possa cambiare l'idea rispetto ad un piano già avanzato che sicuramente reca effetti benefici per la città. Pietrantoni, un brutto colpo per le periferie delle nostre città, anche per la periferia di Pescara, che perde 18 milioni di contributi. Sì, un brutto colpo. Questo è il regalo del neonato Governo 5 Stelle, Lega Salvini. Quindi hanno bloccato questo finanziamento, i lavori stavano per partire, a pescare importantissimi lavori e hanno ritenuto in modo irresponsabile di bloccare questi finanziamenti. C'è stato un lavoro dietro di anni, sono arrivati nuovi ed hanno deciso di bloccare. Questo è il regalo che hanno fatto Pescara e Pescaresi. Un brutto colpo anche perché i lavori appalti erano pronti a partire. Sì, erano già pronti a partire, soprattutto un'opera importantissima come il Pendolo, ma i lavori a Zanni, a Fontanelle, a Borgo Marino Sud, insomma erano tanti i lavori che avrebbero reso la vita e la qualità della vita dei cittadini di Pescara e delle periferie sicuramente migliore. Cambiamo argomento. Lo scorso 28 giugno è stato pubblicato il decreto di autorizzazione definitivo del progetto del metadonotto Larino Chieti. Legambiente Abruzzo, assieme all'omologa Molisana, dopo aver più volte criticato l'autorizzazione, hanno chiesto ai deputati Rossella Muroni e Giuseppina Occhionero di interrogare il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. Vediamo il servizio di Tonino Danese. A fine giugno, per la precisione il 28, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto che autorizza il progetto definitivo del metadonotto Larino Chieti. Da Legambiente di Molise e Abruzzo più volte sono arrivate critiche. La decisione adesso hanno chiesto ai deputati, Rossella Muroni e Giuseppina Occhionero, di interrogare il ministro Luigi Di Maio. Si vuole capire se intenda, in attesa di una rivalutazione del progetto da parte del Ministero, assumere le iniziative di competenza per sospenderne l'avvio. Chiediamo, hanno spiegato ancora dai vertici di Legambiente di Abruzzo e Molise, al Governo nazionale e ai rappresentanti abruzzesi e molisani del Movimento 5 Stelle di impegnarsi per mettere in atto quanto affermato dal ministro Luigi Di Maio, in merito alla valorizzazione delle energie rinnovabili, quale motore per il futuro dell'economia italiana. In sostanza, il metadonotto costituisce il completamento della dorsale adreatica della società Gasdotti Italia tra San Marco e Larino, più di 111 chilometri tra la provincia di Campobasso e quelle di Pescara e Chieti. Si sviluppa parallelamente alla costa, a una distanza compresa tra i 10 e i 16 chilometri verso l'interno. Il costo stimato è di 120 milioni di euro, un'opera strategica per alcuni nel trasporto gas nel centro-sud, mentre per Legambiente, Abruzzo e Molise, il coordinamento Trivelle Zero del Molise e il Forum abruzzese dei Movimenti per l'Acqua e il comitato non stoccaggio Poggio Fiorito, non solo è in contrasto con gli impegni presi dall'Italia in Europa e inutile per la collettività, ma è solo strumentale per chi lo realizza. Sostengono infatti che serva a connettere le aree per realizzare pozzi di stoccaggio e rappresenta un potenziale pericolo per l'ambiente e la biodiversità attraversando 16 siti di interesse comunitario e una zona di protezione speciale oltre all'area archeologica di Montenero di Bisaccia. Secondo Legambiente, comitati e associazioni abruzzese e molisane, ci sarebbe da valutare anche l'eventuale rischio sismico indotto da estrazione e stoccaggio. Viene anche sottolineato che la Sen prevede la totale decarbonizzazione entro il 2050 con il raggiungimento, entro il 2025, del 55% dei consumi energetici da fonti rinnovabili. Il Presidente del Consiglio regionale abruzzese, Giuseppe Di Pangrazio, torna a parlare di editoria di libertà di stampa riprendendo il discorso legato alla regge regionale sull'editoria che è finita nel cassetto. Sentiamo la sua intervista. Il Presidente del Consiglio regionale Di Pangrazio si era impegnato fin dall'inizio del suo mandato e ha molto caldeggiato una legge regionale sull'editoria che però ancora non vede la luce. Quali sono i problemi? Non ci sono problemi. Io ricordo di aver presentato la legge, averla concordata con l'ordine dei giornalisti, poi ho fatto un passaggio successivo con il sindacato dei giornalisti regionali, legge depositata, ricordo solo che esponenti del Movimento 5 Stelle si schierarono contro in commissione con un voto contrario, pur vero che noi abbiamo la maggioranza, ma lì si cercava la condivisione perché è una legge che riguarda tutti, non riguarda una parte istituzionale della nostra regione ma riguarda tutte le rappresentanti istituzionali. Mettemmo un'economia, mi pare, di circa 100 mila euro, 90 mila euro con i risparmi del Consiglio regionale, ci fu questa forte opposizione, da lì si produsse un'altra legge che in sostanza bloccò un po' l'iter della prima presentata da parte dell'ufficio di Presidenza. Io sono stato sempre un assertore che l'informazione nella nostra regione va garantita, va sostenuta, va soprattutto supportata perché mi rendo conto quando sia difficile fare il giornalista ma soprattutto mi rendo conto quanto è difficile per i piccoli editori e quelli anche un po' più grandi sostenere i costi per garantire occupazione e informazione plurale. Il mio impegno è stato un impegno serio, fatto per bene, regolare, ma soprattutto all'insegna della lealtà. Probabilmente altri consiglieri pensavano che quella fosse una legge che serviva a qualcuno non hanno capito che era una legge che garantiva soprattutto il sostegno ai giornalisti, li regolamentava ma garantiva anche il sostegno alle piccole testate giornalistiche e ai piccoli editori. E adesso una notizia che riguarda la cronaca con le operazioni della Guardia di Finanza che riguardano il contrasto alla illegalità economica. In particolare da inizio anno la compagnia di Pescara ha eseguito con riferimento alle aree portuali 680 controlli in materia di valuta per un totale movimentazione di oltre 600 mila euro di cui 4 irregolari per oltre 60 mila euro con conseguenti irrogazioni di sanzioni pecuniarie per 2.600 euro riferibili ad esportazione di valuta superiore al limite dei 10 mila euro. L'attività di controllo anche con l'ausilio di unità cinofile specializzate cash dog eseguita capillarmente soprattutto presso l'aeroporto di Pescara che vede in questo periodo dell'anno implementato notevolmente il numero dei voli internazionali sia per motivi turistici che per affari. Le conseguenti investigazioni a seguito dei controlli aeroportuali hanno portato ad eseguire una verifica fiscale nei confronti di una società del pescarese totalmente sconosciuta al fisco accertando ricavi sottratti alle imposte per 700 mila euro nei confronti della stessa società nonché dei relativi soci ed amministratori sono stati contestati i pagamenti in contanti in violazione della legge per circa 200 mila euro. Adesso proseguiamo con la cronaca che incrocia la politica perché torniamo a parlare del presunto caso di razzismo all'ASL di Teramo. Su questo sono intervenuti i vertici locali della Lega che in una conferenza stampa hanno spiegato i motivi che hanno portato i dipendenti dell'azienda sanitaria teramana coinvolti in questa storia a rivolgersi ai loro legali. Sentiamo il servizio realizzato da Vestina News. Hanno chiesto aiuto ai vertici abruzzesi della Lega i cinque dipendenti della ASL di Teramo in servizio presso la struttura di Giulianova coinvolti nel caso dei presunti insulti razzisti nei confronti di Ibrahima Diop finiti all'interno di una denuncia presentata ai carabinieri. Ora a difendere i cinque dipendenti della ASL sono gli avvocati Luigi Gialluca e Fabrizio Retco insieme a Simona Cardinali che è stata la prima a raccogliere la versione dei dipendenti. Così come affermato anche nel corso dell'indagine interna dell'ASL i cinque continuano a ribadire che non si è trattato in alcun modo di razzismo verso il ragazzo di colore. Gli avvocati cercheranno una via a Bonaria per archiviare il caso. Siamo stati contattati dai dipendenti ASL poiché si sono sentiti accusati senza fondamenta. Hanno appurato dai media nazionali Giulianova, caso di razzismo e quindi hanno chiesto alla Lega di dar loro voce. Io mi sono preoccupata un attimo di verificare i fatti e i fatti allo stato attuale ci dicono che c'è una denuncia contro i gnoti, non ci sono riscontri, nemmeno probabilmente andrà in procura perché non ci sono elementi. Quello che contesto è la strumentalizzazione ai fini politici senza considerare minimamente il danno alle famiglie, alle persone. Erano disperati, credetemi. Quando si può dire che non ci sarà stato nessun caso di xenofobia? Innanzitutto si può dire sin da subito perché non vi è stato alcun caso di xenofobia. Io non so quale motivazioni abbiano mosso il signor Diop a creare tutta questa vicenda che è assorta purtroppo ai danni dei miei assistiti a livello di cronaca locale e nazionale perché il signor Diop presso gli uffici dell'ospizio marino non ha subito alcun tipo di ingiuria ancora meno di stampo razzista. Restiamo in provincia di Teramo. Nella sede dell'ente questa mattina a Teramo è stato presentato il progetto Real Start e gli under 35 che parteciperanno alla costituzione di una cooperativa di comunità in ambito turistico e culturale. Real Start è stato finanziato con 145 mila euro dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù. Il bando gestito da Lanci era riservato alla cosiddetta area del cratere sismico. L'idea progettuale ha come obiettivo quello di costituire una cooperativa di comunità composta da 40 giovani per avviare e sostenere un'attività di impresa di promozione turistica e ambientale nei territori interessati. Andiamo a vedere insieme il servizio. Il progetto Real Start prende le mosse da un bando della presidenza del Consiglio dello scorso anno, proprio di questi giorni. Era stato promulgato dalla presidenza del Consiglio appunto un avviso per progetti di contrasto al disagio giovanile nelle aree del cratere. Noi abbiamo optato per un progetto a più ampio respiro che potesse coinvolgere il numero più ampio possibile di comuni e di ragazzi coinvolti. Abbiamo optato appunto per un progetto di natura culturale, un corso di formazione per accompagnatori turistici riconosciuto dalla regione Abruzzo e che quindi rilascerà un titolo professionale per i ragazzi coinvolti, con l'obiettivo poi, anche con i fondi del progetto, di creare una cooperativa di comunità che possa dar vita ai luoghi di attrazione culturale del cratere. Un modo anche per incentivare e supportare una forma di autoimprenditorialità che sicuramente è mossa anche da uno spirito più profondo di appartenenza al luogo e di cura e amore per i luoghi dove si vive. L'Università di Teramo si occuperà di tutta la formazione che avrà avvio da fine settembre e inizi di ottobre in un percorso accreditato con la regione Abruzzo in cui i vari insegnamenti sono sostanzialmente distinti in due parti. Nella prima studieremo tutti i modelli e le azioni di management in ambito turistico e di marketing territoriale per poi trasferire tutte le competenze e le metodiche tecniche affinché i destinatari di questo progetto abbiano piena consapevolezza del ruolo che sul territorio andranno a svolgere. Credo che sia una grande opportunità di rinascita del nostro territorio. Cambiamo argomento. Serata di festa quella di ieri a Guardiavomano che ha accolto di ritorno da Glasgow la neocampionessa d'Europa di ciclismo Marta Bastianelli. L'atletta laziale ma ormai abruzzese d'adozione ha ricevuto l'abbraccio della comunità dove vive da anni assieme al marito ed ex professionista Roberto De Patre. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Marta una bellissima serata questa perché il risultato, quello che hai conquistato domenica è stato straordinario aver riportato, aver portato il campionato d'Europa, la maglia di campione d'Europa in Abruzzo. Sì, è stata una gara di eccellenza. Credo che è stato fatto un lavoro veramente stratosferico anche dalle mie compagni. Io praticamente ho messo quasi la firma finale. Però questo diciamo mi dà forza per andare avanti, per continuare su questa strada. Ho fatto tantissimi sacrifici e quindi so di doverne farne ancora ma sono pronta a questo. Ti posso chiedere quando è che hai cominciato a pensare di potercela fare? Quando l'Olanda tirava con la Wanderbregen in fuga? Forse sì, avevo capito che c'era qualcosa che non andava e qualcosa che nei loro piani si era un po' diciamo distorto. Quindi noi eravamo lì pronte a qualsiasi cosa e infatti ci siamo fatte trovare veramente pronte e poi abbiamo appunto favorito la volata finale. L'abbraccio a tutte le tue compagne non è stato casuale proprio per questo perché questa è una vittoria davvero con il tuo nome in calce ma costruita con la squadra. Sì, è stata una vittoria di squadra sicuramente. Una vittoria dove credo che in alcuni casi ci credevano più loro che io perché al penultimo giro forse era quasi incerta, poi volevo che la fuga andasse via. Però credo che veramente questo ripaga, il lavoro di squadra ripaga poi nel lavoro finale. Gandwe Welgem, Dottign, Freccia del Brabante, campionato europeo 2018 da incorniciare. Sì, diciamo che adesso siamo a quota 8 e spero di riuscirne a vincere altre due per arrivare a 10 e poi mi ritiro. Diciamo che difficilmente le sogno, a parte quelle più importanti. Però dai, da adesso in poi abbiamo anche molte altre belle gare, quindi magari due ancora di Affernane non è che mi dispiacerebbe. È vero che c'è la possibilità di non vederti al campionato del mondo? Allora, mi è stato accennato questa cosa. Io non ho ancora letto nulla, quindi può darsi che magari ci sia questa nuova regola da quest'anno che i campioni d'Europa non vadano più di diritto. Però magari non è così e ci devo andare, quindi magari mi vedrete lì, insomma. E chiaramente di questa straordinaria vittoria se ne continuerà a parlare domani sera alle ore 21 nella trasmissione vero tradizionale dedicata dalla nostra emittente, dal patron Luciano Rabbottini al mondo delle due ruote. Invece adesso noi ci spostiamo e cambiamo disciplina, andiamo sul calcio per parlare del Pescara che è sempre vigile sul mercato con l'attaccante Cristian Bunino che potrebbe tornare alla Juventus per andare a rinforzare l'Under 23 bianconera. Se così fosse potrebbe anche restare in biancazzurro Andrea Cocco. Capone invece ci arriverà in Abruzzo dopo aver prolungato il contratto con l'Atalanta. Facciamo il punto nel servizio di Paolo Renzetti. Non si ferma il mercato del Pescara che ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dalla Lazio del centrocampista classe 95 Luca Crecco che potrebbe fare il suo esordio anche domenica prossima al Bentegodi di Verona in occasione della gara di Coppa Italia con il Chievo ma scendere anche in campo domani al Rubens Fadini di Giulianova in occasione dell'amichevole dei biancazzurri con i giallorossi. Sempre sul fronte arrivi il Pescara è alla ricerca di un terzo portiere con Simone Farelli sempre nel mirino del DS Luca Leone. In uscita Cristian Bunino centravanti cresciuto nel settore giovanile bianconero della Juventus e poi girato più volte in prestito prima della cessione a titolo definitivo agli abruzzesi a gennaio. Bunino potrebbe tornare in casa bianconera per andare a rinforzare la formazione Under 23. Se dovesse partire potrebbe così restare al Pescara Andrea Cocco. Ma occorre comunque sfoltire l'organico. Sono in lista di partenza diversi calciatori. Per l'arrivo poi di un eventuale difensore bisognerà cercare prima di cedere Michele Fornasier, il giocatore di Vittorio Veneto. Era stato seguito dagli olandesi del Fortuna Sittard ma poi la trattativa è naufragata. La società abruzzese dovrà sfoltire l'organico cedendo oltre a Fornasier diversi giocatori fra cui centrocampisti Selasi e Proietti. Le punte Luca Forte e Marco Sansovini e l'esterno d'attacco Kevin Yamga. Potrebbe invece restare alla corte di Piloni il terzino Cristian Ventola. Nelle prossime ore sono intanto attesi a Pescara Capone e Melegoni. Capone in particolare raggiungerà l'Abruzzo dopo aver firmato il prolungamento del contratto con l'Atalanta, società proprietaria del suo cartellino. Lutto anche in casa bianca azzurra per la scomparsa di Gustavo Giagnoni. L'allenatore con il Colbacco che fu tecnico di Milan, Torino, Roma, Mantova, Bologna, Cremonese, Cagliari, Perugia, Udinese, Palermo e anche del Pescara nella stagione 79-80. Andiamo avanti col calcio. Scendiamo di categoria. Andiamo in Serie C esordio ufficiale per il Teramo in Coppa Italia. Questa sera i biancorossi di Giovanni Zichella se la vedranno con la fermana nel primo turno del triangolare che prevede anche il Rieti. Non convocati Amadio, Tulli e Mancini nella lista dei partenti. Out per infortunio il portiere Gomis ci sarà tra i pali Lewandowski. Ascoltiamo le ultime prima del match di questa sera dal Bonolis con Ania Cantagalli. Primo match ufficiale della stagione per il Teramo. Questa sera i biancorossi qui al Bonolis affronteranno la fermana nel primo match di Coppa Italia del Girone H. Girone H in cui è incluso anche il Rieti. C'è curiosità ovviamente per vedere per l'appunto Speranza e compagni in un primo impegno ufficiale in questa stagione dopo le amichevoli. Curiosità che anche il mister Giovanni Zichella si va per la squadra che comunque più o meno si è già intravista in queste amichevoli. Un 4-3-3 con un probabile tridente composto da Bacio, Terracino, Piccioni e Di Renzo sulla sinistra. Ma per le impressioni del mister però appunto sentiamo Zichella. È una partita di calcio. Se uno vuole dare la famosa mentalità vincente non può dire in Coppa Italia andiamo piano e in campionato andiamo forte. Si va forte sempre in Coppa Italia, in allenamento e in campionato. Non ho ancora ben in mente una formazione base e poi dipende anche da come staranno i ragazzi e da tante altre situazioni. A tenere banco in casa Teramo è però soprattutto ovviamente l'infortunio di Gomis. Il portiere di origini senegalesi ha rimediato praticamente uno strappo dagli ultimi accertamenti medici. ne avrà per lo meno per due mesi e quindi la società sta ovviamente valutando se tornare sul mercato per rinforzare per l'appunto i pali dove questa sera ci sarà Lewandowski che partirà a titolare. Per lui è una grandissima occasione. Sono sicuro che farà bene perché anche lui è un buon portiere. Avevamo preso sì Gomis ritenendolo un top player forse per la nostra categoria però sapendo anche che dietro c'era un buonissimo portiere quindi siamo tranquilli anche su quello. Adesso guardiamo Lewandowski poi da qui a un mese forse e anche di più dall'inizio del campionato faremo le valutazioni giuste. Società con il direttore sportivo Sandro Federico che continua a monitorare gli altri settori del campo che ancora necessitano di interventi. Si aspetta ancora l'arrivo di Fiordaliso per quanto concerne la difesa e poi Zichella ha ammesso anche che si aspetta un rinforzo giovane per il centrocampo nel ruolo di Mezzala. Mancano secondo me ancora un paio di ragazzi. Ho sentito ancora oggi che nasconderlo direttamente il ragazzo perché doveva partire per Liverpool col Torino e non è partito. È rimasto a Torino quindi mi dispiace per lui che non è partito ma ero quasi contento della scelta di non averlo convocato. Quindi le possibilità che lui possa andare via dal Torino sono aumentate ma non sono aumentate le possibilità che possano avvenire da noi. È logico che io sono convinto che i calciatori a volte vedi alcuni calciatori senza fare un nome che uno ha detto sono venuto a termo perché Zichella mi ha preso per sfinimento fuori di telefonarmi e quindi questo secondo me è il lavoro da fare. Non mi dispiace Danso dell'Inter, un 98, non mi dispiaceva Pogbega del Milan, Mancino che si proponeva ma ahimè non vuole andare in B giustamente alla Spezia. Non mi dispiace anche un giocatore del Pisa che si chiama Nacci, un 98, Mancino, anche lui nato a Torino. L'avevo scoperto già tre anni fa, giocavano a Pro Settimi in Serie D, poi dovevamo portarlo alla Feral Pisa e invece è andato al Pisa. Andiamo avanti e cambiamo disciplina, ci spostiamo sul triathlon adesso. Domenica 12 ci sarà la prima edizione del triathlon Città di Silvi, questa mattina la presentazione in municipio della manifestazione che prevede l'arrivo in città di un centinaio di atleti. andiamo a vedere insieme il servizio. Domenica 12 agosto appuntamento a Silvi Marina con la prima edizione del triathlon Silvi, un evento organizzato dalla WISP a Bruzzo e Molise, dalla SD Pro Life, dalla Movida Eventi in collaborazione e con il patrocinio della città di Silvi. Partenza fissata alle ore 18 per la gara ufficiale, mentre alle 17 ci sarà il running bimbi con varie categorie dai 0 ai 14 anni. Logisticamente Silvi si presta a queste manifestazioni avendo il mare a portata di mano proprio e quindi siamo stati molto agevolati tecnicamente nel realizzare questo evento. Cercheremo di dare il meno possibile disagio alla popolazione. Abbiamo studiato il percorso al minimo dettaglio senza bloccare il traffico, limitandoci proprio sui due metri, stringendoci sui due metri tutti con i birilli per delimitare la strada e per far sì che defluisca il traffico e quant'altro. Il primo triathlon città di Silvi Marina è una gara di triathlon promozionale con bici da strada in formula sprint, sarà possibile competere sia in forma individuale oppure con staffetta a squadra. Il percorso prevede, come da formula del triathlon, tre discipline, il nuoto per 750 metri in mare, poi 20 chilometri di bicicletta e 5 chilometri di corsa a piedi. È uno sport cosiddetto nuovo, è entrato a far parte dell'Olimpia del 2000 e come si è detto già è un nuoto, ciclismo, corsa. È un percorso tecnico, bello e daremo spettacolo sicuramente. Il sindaco di Silvi Marina, Andrea Scordella, sottolinea come eventi di questo genere siano importanti per il territorio e per la promozione turistica della città. Verrà toccato tutto il territorio silvarolo, oltre i 100 atleti da tutta Italia, dunque siamo veramente felici insieme alla UISP di aver organizzato questo primo evento a Silvi con la speranza di riportare Silvi al centro delle cronache sia sul turismo e sia sullo sport nazionale. In poco tempo organizzare una manifestazione così importante non è stato semplice, però grazie anche al presidente della UISP e anche a tutti quanti al sindaco, alla giunta, ma anche e soprattutto alle autorità locali che ci daranno una mano nella gestione di questa bellissima gara. Mi sono tranquillizzata e sono contenta che Silvi possa ospitare questa grande manifestazione. E' tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Davvero tutto e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.